Vecchi, il test di questo fine settimana ha confermato la forza del centro-destra? Sicuramente sì, sicuramente un risultato che non è arrivato a caso, parte da lontano. Ci sono stati sicuramente dei percorsi diversi nei due comuni dei quali abbiamo ottenuto un grande successo. La riconferma di Capolona è sicuramente frutto del lavoro che è stato svolto in questi cinque anni da un sindaco capace. Mentre invece per quello che riguarda la Terrina Pergine, dove ci siamo spesi maggiormente, abbiamo individuato nel candidato sindaco una figura importante e un risultato per la prima volta finalmente contendibile in questo comune. Che prospettive ci sono in vista del 2024, dove saranno tanti i camoni in provincia chiamati al voto? Sicuramente ci sarà da lavorare molto e fin da subito. I comuni sono veramente tantissimi e con esigenze diverse e naturalmente dovunque cercheremo di andare riuniti come centro-destra. C'è un punto interrogativo legato a Cortona? Cortona è sicuramente uno di quei comuni dove il sindaco ha avuto dei momenti in cui alcune parti del centro-destra hanno avuto degli allontanamenti, però c'è da lavorare. Ecco, ma lavorerete appunto per una lista unitaria? Sicuramente cercheremo di andare uniti dovunque. Anche perché l'esempio di massa non va giovato? Sicuramente no, si vince uniti. Sicuramente no, si vince uniti.